Bisogna distinguere i sogni, non prendere ogni pensiero che va. Se va verso una direzione, che sia un'illusione, una non realtà. Bisogna distinguere i tempi, gli istanti e i momenti, il presente e il futuro. Per non ritrovarsi in un bar, col bicchiere per dar capocciate nel muro. C'è il tempo per una ragazza, far foto lì in piazza e andare per Milano. C'è il tempo per stare da solo, col proprio lavoro e di resto lontano. E mettere a fuoco anche gli occhi, se il cuore lo tocchi e ti sembra in riserva. Guardare con vista più pura, Dio nella natura, nei fiori, nell'erba. Bisogna saper pazientare, saper aspettare il momento opportuno. Bisogna distinguere i modi per sciogliere i nodi di un grande disegno. Bisogna capire che la vita non resta isolata, ma è l'onda di un segno.